ala e buonasera buonasera a tutti bentrovati e benvenuti alla nostra ormai consueta sesto anno grazie a dio Baruch Hashem di seguito che facciamo i nostri incontri ogni giovedì ogni settimana che dio ci possa dare tanta tanta forza di continuare per tanti tanti anni ancora a studiare a stare insieme a ingrandire la nostra comunità con tanta tanta benedizione cominciamo subito come di consueto con qualche moneta di tzedakah chiediamo anche a casa di fare questa grande mitzvah che porta bene Berachah a tutto il mondo abbiamo diverse date stasera da ricordare oggi in questo istante siamo il 14 di Kislev 14 di Kislev è la data la data nel quale il Rebbe e la Rebbe Zin e la sua moglie si sono sposati perciò questo è un giorno molto particolare di grande benedizione che possa portare tante benedizioni a tutte le coppie sposate per avere pace armonia in casa ovviamente il giorno che i due Zadikim si sono sposati sicuramente deve avere è un giorno speciale e diamo anche una benedizione a tutti quelli che non sono ancora sposati che stanno ancora cercando la loro anima gemella che questo giorno di Yudalet Kislev possa portare benedizione a tutte le anime in cerca di potersi rincontrare di creare una famiglia sposarsi e avere tanta tanta gioia sapete parliamo adesso per un attimo del matrimonio del rispetto che ci deve essere tra marito e moglie allora il Rebbe è sposato con la figlia del Rebbe precedente il Rebbe precedente aveva soltanto figlie femmine perciò la leadership non ha potuto mandare al figlio perché non aveva un figlio maschio perciò è andato a finire a un genero uno dei generi che è il Rebbe adesso il primo anno quando è mancato il Rebbe precedente perciò cercavano volevano che il Rebbe appunto il genero portasse avanti la leadership del movimento del gruppo Chabad il Rebbe non voleva per un anno intero non voleva accettare per questa sia ragione sia non voleva accettare questa responsabilità di prendere posto del Suocero forse era per rispetto verso il Suocero almeno per il primo anno non possiamo sapere esattamente in quel momento cosa il Rebbe pensava ma il fatto è questo la moglie del Rebbe che era appunto la figlia del Rebbe precedente lei ha insistito i Hasidim continuavano a insistere a chiedere al Rebbe di diventare di prendere questo ruolo la moglie anche del Rebbe ha insistito con suo marito dicendole una cosa molto importante molto interessante come puoi lasciare che tutto il lavoro di mio padre per anni e anni post guerra e tutto quanto possa andare tutto in vano è giusto che tu continui il lavoro di mio papà allora quando lei la moglie la Rebbe ha chiesto al Rebbe di prendere questo ruolo allora in quel momento il Rebbe ha accettato e quando lui ha detto il primo discorso quando lui si è insediato come nuovo Rebbe come successore del Suocero era appunto il giorno che era dopo un anno intero dopo che è mancato cioè il 10 di Shvat quando era l'anno della ricorrenza di partita del primo anno del Rebbe precedente perciò perché dico questo? per vedere come questa donna lei sapeva cosa vuol dire essere la moglie di un Rebbe perché lei ha vissuto tutta la vita con il suo padre che era un Rebbe vedeva come è difficile essere la moglie di un Rebbe perché un Rebbe è sempre devoto alla comunità al popolo mette sempre gli altri prima di se stesso cioè lei sapeva quanto essere la moglie del Rebbe era una grande rinuncia alla propria vita privata è tutto un modo di vivere che nessuno può capire nonostante ciò nonostante lei sapeva che dicendo al Rebbe di prendere questo ruolo lei era come se in un certo senso perdesse tanto di un marito perché appunto da quel momento lui doveva essere sempre per il pubblico poi figuriamoci c'era una grande differenza tra Rebbe precedente e il nostro Rebbe perché una volta in America tutto si è ingrandito era molto più vasto migliaia di lettere che riceveva e andavano a rispondere a ogni persona cioè il lavoro del nostro Rebbe è cresciuto moltissimo in paragone al suo suorcio perché ovviamente il tempo era il posto era il migliore perciò l'America non più la guerra ma dopo la guerra perciò tante cose ha fatto sì che il Rebbe potesse allargare oggi figuriamoci siamo il movimento Chabad più di 6.000 emissari in tutto il mondo all'epoca non c'era neanche uno perciò lei capiva la difficoltà di essere la moglie del Rebbe eppure lei ha insistito infatti quando qualcuno una volta è venuto a chiedere consiglio al Rebbe come fare che era un grande dottore e diceva io ho una grande carriera tutti mi cercano spesso viaggio e ho poco tempo per stare con la mia famiglia chiedeva un consiglio al Rebbe e il Rebbe rispose guarda che anch'io c'è una giornata molto lunga molti impegni due minimo due volte alla settimana il Rebbe non tornava neanche a casa perché tutta la notte stava in ufficio al Tempio perché avevo udienza privata con le varie persone perciò era quasi mai a casa però dice anche se io ho una tabella di marcia molto piena io ogni giorno ovviamente tornavo a casa ovviamente oltre a quei due giorni a settimana ogni giorno quando prendo un momento di bere un tè con mia moglie abbiamo un appuntamento fisso ogni giorno che sia 20 minuti che sia 30 minuti che sia 15 minuti io ogni giorno ho un appuntamento fisso e insieme beviamo un tè chiacchieriamo stiamo insieme e così via Rebbe dice a questa persona qua questi 20 minuti per me che mi incontro che chiacchiero con mia moglie per me sono importanti quanto la preghiera che faccio ogni mattina che metto i tefilin per me ha lo stesso valore vedete cosa vuol dire qua lui sta dicendo che cosa c'è di più importante per un Rebbe mettete i tefilin importantissimo la Mitzvah di fare la preghiera lui dice per me andare a casa e stare quei 20 minuti con mia moglie per me ha lo stesso valore di mettete i tefilin per Dio questo ci dimostra tante cose uno è un insegnamento a tutte le donne di spronare i propri mariti a partecipare a lezioni di Torah anche se il marito magari deve uscire andare al tempio o al centro dovunque sia per studiare le mogli hanno la forza di convincere i mariti e quando il marito si sente che la moglie lo sta mandando è più tranquillo del fatto che quella ora ora e mezza magari non sta a casa aiutare i bambini quant'altro perciò questo lo impariamo dal Rebbe Zin ogni moglie deve incoraggiare il marito e qua vediamo il marito invece come si deve comportare che per lui tornare a casa anche se c'ha tanto lavoro da fare per lui così come ogni mattina mettete i tefilin è importante anche andare dalla moglie e spendere del tempo con lei c'era una volta per far vedere come il Rebbe e la Rebbe Zin era una copia molto unita molto affiatata un rispetto che era una cosa esemplare una volta la moglie del Rebbe non stava bene aveva qualche problema di salute allora lei ha fatto un appuntamento da un dottore specialista per quella malattia che lei aveva e ovviamente loro avevano sempre un qualcuno in casa che le aiutava nelle loro faccende che stava con loro che magari guidava la macchina per accompagnare tutto quello che era le faccende di casa c'era una persona un inserviente che aiutava il Rebbe e la Rebbe Zin e così via allora la Rebbe Zin ha chiesto a lui di fare questo appuntamento dal dottore però gli ha detto mio marito non sa niente e non deve sapere niente perché se no si preoccuperà tu non dovrai dire a lui che noi abbiamo un appuntamento dal dottore ok però questo inserviente da una parte voleva tenere la parola d'altra parte tutto il mondo mandano lettere al Rebbe chiedere bendizioni per guarire per questo e quest'altro e a lui sembrava assurdo che la propria moglie del Rebbe non dovesse avere una benedizione dal marito allora ha deciso di andare a dirlo al Rebbe entra dal Rebbe dice guai gli ha raccontato la storia che la moglie non vuole che lui sappia per non preoccuparlo però sappi che noi oggi abbiamo un appuntamento da questo tal dottore eccetera eccetera il Rebbe gli ha detto grazie che me l'hai detto non dire niente a mia moglie che mi hai svelato questo segreto mi raccomando appena tornate vieni e raccontami quello che il dottore ha detto non tenermi sulle spine vedete di nuovo il rispetto di uno verso l'altro lei ha voluto rispettare il Rebbe per non preoccuparlo e lui ha detto stai al gioco non voglio che lei sappia che magari stia male perché io magari sto male vedete questo è la l'intesa che ci deve essere tra ogni coppia tra ogni marito e moglie certo è difficile certo sono persone di un altro calibro di un'altra generazione tutto è vero però ognuno nel proprio piccolo deve cercare di mantenere almeno di cercare di emulare questi casi di personaggi che hanno così un amore rispetto uno per l'altro almeno nel proprio piccolo di cercare un pochettino di prendere esempio da quello che questi due ci hanno insegnato di cos'è veramente un matrimonio abbiamo un'altra data speciale questa settimana che è martedì che arriva che è il 19 di Kislev ogni anno noi lo festeggiamo lo ricordiamo il 19 Kislev è quello che viene chiamato il la Rosh Hashanah della Chassidut perciò noi tutti studiamo Chassidut ogni settimana da anni perciò martedì è la festa della è la festa della Chassidut adesso cosa è successo perché si chiama la festa della Chassidut come ogni anno ricordiamo è il giorno che nel 1798 il primo Rebbe di Lubavitch 1798 l'autore del Tania lui era stato viveva in Russia ovviamente era stato messo in prigione perché all'epoca nella Russia comunista era ovviamente vietato divulgare Torah e lui insegnava Torah divulgava tutto il chassidismo nato in Russia non soltanto Torah ma il chassidismo che era la parte più profonda le perle di saggezza della Torah perciò è stato imprigionato dallo Stato perché lui appunto diffondeva Torah che era vietato ed è rimasto 53 giorni in prigione cosa è successo? il 19 di Kislev cioè martedì che arriva il Rebbe è stato liberato dalla prigione e da quel momento tutti gli anni già da 200 anni in poi in qua si festeggia sempre questo giorno viene chiamato proprio la Rosh Hashanah il capodanno del chassidismo perché tutto è rinato e cominciato in quel giorno adesso come mai è così importante festeggiare i 19 di Kislev perché non è soltanto che si tratta della liberazione di un grande rabbino che già di per sé sarebbe soltanto un buon motivo già questo di festeggiare ogni anno ma qui c'è una cosa di più profonda non soltanto lui è stato liberato ma tutto il decreto ovviamente ogni cosa che succede nel mondo c'è un decreto dal cielo è voluto da Dio perciò perché è stato messo in prigione perché ci sono state ci sono state una sorta di accusa diciamo così da angeli in cielo che dicono ci sono hanno parlato ci sono rivolti a Dio dicendo ma chi è questo umano qua che lui prende la chassidut vuol dire la parte più profonda le perle di saggezza della Torah e le rivela le insegna a tutte le persone all'epoca soltanto i grandi studiosi potevano avere accesso a studiare a questi appunto la chassidut cabalà cose così importanti arriva il Rebbe di Lubavitch il primo e dice basta tutti devono sapere devono studiare devono imparare la chassidut perciò ha cominciato a diffondere a divulgare insegnare allora dall'alto chi è lui che si permette senza permesso di divulgare la cabalà che è così importante e così profonda a tutti a uomini semplici e così via allora c'era un'accusa perciò quando c'è un'accusa si deve fermare si fa un processo qualcuno viene a accusare vediamo ascoltiamo perciò quei 53 giorni che lui è stato in prigione è perché in cielo c'era appunto questa accusa quando lui è stato liberato non era soltanto che la russia gli ha permesso di uscire ovviamente sapendo che lui avrebbe continuato anzi con più forza a insegnare Torah e chassidismo ma vuol dire che dal cielo il tribunale celeste ha decretato sì c'era un'accusa e in effetti come mai lui ha fatto una cosa del genere però in cielo hanno decretato ok è giunto il momento che veramente tutte le persone anche le più semplici le meno erudite possono studiare imparare i segreti della Torah la Kabbalah la chassidut e così via perciò il decennio di Kislev è il giorno dove il chassidì lo studio della chassidut è stato reso pubblico ed è stato ufficializzato perciò ognuno di noi anche se non siamo grandi studiosi abbiamo il merito la fortuna di poter avere accesso e studiare ogni settimana quello che la chassidut ci insegna molto in breve la chassidut c'è 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 una filosofia proprio totalmente diversa da quello che è la chassidut Musar è quella corrente è quello studio pensiero di studio che dice che il corpo essendo animale un corpo che abbiamo l'anima divina che si trova dentro il corpo dice che il corpo bisogna mortificarlo abbassarlo per poter dare l'occasione all'anima di essere superiore al corpo di elevare perciò loro dicono per elevare l'anima c'è bisogno di mortificare il corpo di fare digiuni ogni tanto di abbassarlo di non mangiare questo e quest'altro tutto uno studio tutto un modo di vedere la Torah in un certo modo ok arriva la chassidut e dice anziché abbassare denigrare mortificare il tuo corpo solo perché vuoi che la tua anima si elevi fai il contrario la chassidut ci insegna di come elevare l'anima non a scapito del corpo ma al contrario che il corpo l'anima deve essere capace di trascinare di influenzare anche il corpo perciò il Musa ti viene a dire caccia via il corpo e eleva soltanto l'anima più il corpo è debole più l'anima è forte la chassidut dice ma perché se Dio ci ha dato un corpo perché mortificarlo perché denigrare perché dimenticarci il corpo il corpo serve perché le mizuot vanno fatte perciò anche il corpo deve elevarsi deve illuminarsi perciò la chassidut insegna positivo non essere negativo guarda tutto positivo alle la tua anima studia fai le mizuot e vedrai che anche il tuo corpo animale i tuoi istinti seguiranno l'insegnamento che la tua anima riuscirà a influenzare in modo positivo anche il corpo chassidut abbiamo detto che è luce che una luce sul modo di vedere le cose di vedere lo studio della Torah le mizuot la chassidut non viene a cambiare niente è stata una corrente innovativa ma non ha cambiato mai sia nessuna regola della Torah la Torah non si può cambiare la Torah è quella che è stata data da Dio a Mosè l'unica cosa che la chassidut fa è porta una luce su diversi aspetti della Torah che magari fino all'epoca non erano noti per esempio se io ho un classico esempio una tavola imbandita di tanto buono cibo e cose varie se la luce è spenta io non vedo la tavola imbandita la tavola è imbandita ma io non la vedo perciò la chassidut che la fa porta luce a determinate storie a tutta la Torah e te la fa vedere in un'ottica diversa perciò quello che già è stato dato da Dio che è la chassidut che finora non era rivelata perché il mondo non era ancora pronto adesso questo evento del 19 di Kislev che noi festeggiamo vuol dire che c'è una questa luce si accende finalmente e possiamo vedere quello che già è stato lì era pronto per noi che magari noi non eravamo ancora pronti per capirlo e assorbirlo e vederlo la chassidut è quella cosa che che da ci insegna positività cari amici la vita è difficile lo sappiamo tutti chi non studia chassidut a volte può prendere la vita in un modo amaro ma noi che studiamo la chassidut abbiamo non che i problemi spariscano eh i problemi rimangono perché sono un disegno di Dio ogni problema è una benedizione di Dio una benedizione di Dio solo che con la chassidut noi riusciamo a vedere in un modo diverso come affrontare le varie problematiche della vita perciò se noi abbiamo l'ottica dell'insegnamento della chassidut ogni cosa difficile possiamo capire il perché o comunque come realizzare in che modo affrontare queste difficoltà della vita perciò la chassidut ci insegna che ogni cosa di guardare soltanto nel verso positivo di trovare sicuramente una luce eh di positività e questo ci aiuterà sicuramente a come di come affrontare la vita infatti tutte le parashat che noi studiamo riusciamo a trovare sempre il lato positivo di ogni cosa se fate caso ogni cosa che le studiamo abbiamo un problema poi vediamo la luce all'interno di questo problema come vedremo proprio stasera stasera noi cosa parleremo nella parasha la parasha di Vaishlach è di quando dopo venti anni finalmente Giacobbe torna indietro verso casa si è sposato ha fatto figli le tribù adesso è arrivato il momento di tornare a casa adesso quando lui torna verso casa sappiamo che c'è il fratello Esau che è ancora arrabbiato con lui la Torah ci racconta una storia brevissima ma assai profonda assai affascinante che aiuta tutti noi a distanza di migliaia di anni a capire la grandezza di tutto quello che ci sta succedendo nonostante ci può sembrare appunto buio e sto parlando nel fattispecie dell'incontro della battaglia che Giacobbe deve fare con l'angelo protettivo di Esau ogni persona ha un angelo arriva questo angelo però in veste umana che è un angelo negativo che vuole uccidere Giacobbe Giacobbe era con tutta la sua famiglia passano il Yabok il fume Yabok loro vanno dall'altra parte del fiume lui ritorna indietro per un certo motivo non stiamo qua a dilungarci perciò lui è da solo la famiglia dall'altra parte del fiume lui è tornata di nuovo indietro la Torah racconta che lui è da solo e tutta la notte ha combattuto contro questo corpo angelo questa persona che lo vuole uccidere e la Torah racconta tutta la notte hanno un combattimento fino a che arriva la mattina quasi all'alba quando sta per sorgere il sole e in quel momento quando questo angelo vede che non è riuscito a uccidere Giacobbe lo ferisce sul nervo sciattico come noi sappiamo adesso questa è la storia semplice vediamo di capire la chassidut che enorme insegnamento ci da su questo combattimento Giacobbe rappresenta ovviamente le forze del bene il tzaddik questo angelo è le forze del male che vuole uccidere Giacobbe quando questo angelo viene a combattere non di giorno di notte tutta la notte perché di notte viene questo angelo perché cari amici le forze del male attingono aggiungono vitalità solo di notte specialmente di notte infatti c'è una vecchia che dice che di notte non è bene che una persona vada in giro da solo perché ci sono queste forze del male che possono se una persona da sola possono danneggiarlo oggi magari un po' di meno una volta era molto più pericoloso di oggi perciò di notte nessuno usciva sicuramente non da solo allora di notte che è il momento del buio è il momento cos'è il buio? buio è falsità buio è negatività perché quello che è al buio può fare tante cose brutte al buio ma nessuno ti vede buio è falsità è bugia è contrario di verità perciò qua abbiamo una lotta tra buio è luce quando è buio allora le forze del male sono molto sono svegli sono forti perciò questo angelo viene proprio di sera quando lui è più forte cosa succede? combatte, combatte ma non riesce perché Giacobbe riesce a difendersi ascoltate bene quando arriva la mattina che sta per sorgere il sole a quel punto l'angelo vuole andare via deve scappare via e Giacobbe lo sta tenendo e dice lasciami andare via perché in quel momento l'angelo prima che arriva al sole vuole scappare via? perché quando arriva la luce del giorno che rappresenta positività divinità che rappresenta benedizione tutto quello che è positivo è luce cosa che io vedo capisco e non buio che è tutto nascosto quando arriva il giorno lui non ha più forza lui sa che perde tutta tutta la sua forza è come i pipistrelli che di notte sono forti e dei giorni non ci sono lui in quel momento capisce che fra poco se arriva il sole Giacobbe potrà ucciderlo perciò vuole scappare via e in quel momento cosa fa? un attimo prima quando vede che non riesce a ucciderlo almeno lo ferisce ma ciò vedete questo combattimento tra buio e giorno bene e male che avviene proprio di sera perché di sera è il momento che la forza negativa può incombere ma andiamo avanti in qualcosa che questo discorso piacerà sicuramente al nostro amico Massimo Carisi che è molto amante di tutto quello che è Mashiach arriviamo al dunque alla cosa più importante di questo discorso di questa battaglia la sera il buio rappresenta il galut la diaspora non soltanto il fatto che noi stiamo fuori geograficamente da Israele ma la diaspora spirituale che noi ci troviamo ormai da migliaia di anni senza la maggior parte delle mitzvot senza santuario senza Mashiach perciò il buio rappresenta la diaspora la luce rappresenta la gheula la redenzione a men presto giorno in oggi c'è un combattimento tra bene e male facciamo dire che tutto il momento finchè c'è diaspora è come se stiamo nel buio brancoliamo nel buio perciò non capiamo il buio vuol dire non capire cosa è importante e cosa è secondario cosa è giusto cosa è sbagliato perché nel buio è tutto confuso non c'è la verità non c'è la luce della verità perciò quando siamo in galut quando siamo ancora in diaspora noi non possiamo capire il valore della luce il valore della verità il valore del bene della giustizia e della Torah allora cosa succede di notte adesso che siamo ancora nel fase della notte stiamo tutti soffrendo siamo poveri spiritualmente dobbiamo combattere sempre contro il male fisicamente e specialmente spiritualmente cosa succede abbiamo detto che quando sta per sorgere il sole l'angelo ferisce cosa insegna oggi il galut questa diaspora sta per finire il Rebbe l'ha detto ormai che questa è l'ultima generazione questa è la generazione che verrà Mashiach a salvare tutti quanti noi dalla diaspora perciò proprio in questo momento che siamo come nella storia siamo alla fine della notte la fine della diaspora del galut allora quando le forze del male vedono che non sono riusciti ad annientarci ad ucciderci cosa dicono almeno faccio li ferisco non li ho uccisi perché Dio ci protegge ovviamente almeno li faccio del male e lui cosa fa? dà un colpo al nervo sciattico di Giacobbe dico almeno ti ferisco perciò noi quando vediamo che il mondo va all'impazzata materialmente e spiritualmente che sono persone che fanno opere di male che uccidono altre persone che uccidono civili ecco senza entrare questi cosa sono sono gli ultimi momenti che loro sentono che loro percepiscono che fra poco la loro fine sta per arrivare perché il male sa che fra poco è luce e morirà loro vedono ormai con i loro occhi che fra poco la redenzione sta per arrivare per il mondo interno non soltanto per gli ebrei per il mondo interno arriva la redenzione arriva Mashiach perciò queste forze del male dicono non siamo riusciti nel nostro intento almeno buttiamo bombe facciamo all'impazzata facciamo quello che possiamo fare danneggiamo più che possiamo disturbiamo la quiete mentale delle persone togliamo la loro sicurezza quello che riusciamo facciamo è per questo che il mondo è impazzito negli ultimi anni però calma fra poco fra pochi istanti sorge il sole e la luce comincerà a illuminare il mondo intero la luce di Dio la luce di Mashiach porterà tranquillità serenità tutti capiremo cosa è giusto cosa è sbagliato tutte le problematiche di migliaia di anni del galù del buio tutte spariranno perché finalmente arriverà la grande benedizione la grande promessa che Dio ha dato nella Torah in Isaia in diversi libri dell'esistenza di Mashiach la Torah stessa lo parla dell'esistenza di Mashiach che porterà il mondo a a un livello di vita superiore pace tra le nazioni pace tra le persone non ci sarà più povertà non ci sarà più la fame non ci sarà più la gelosia perciò tutti avremo tanto di tutto e saremo felici e contenti senza guardare quello che l'altro ha oggi guardiamo quello che lui ha e io non ho arriverà un giorno che avremo tutti così tanto che saremo pieni e sazi di quello che noi abbiamo di noi stessi per questo che l'angelo dove colpisce Noè Giacob proprio sul nervo sciattico dov'è il nervo sciattico? è all'altezza dell'organo riproduttivo è un segnale qua che lui voleva uccidere Giacobbe o comunque se non è riuscito a uccidere lui voleva uccidere la nascita e la crescita del popolo ebraico ferendolo proprio all'altezza del suo organo riproduttivo era un segnale per dire voglio far fuori la dinastia del popolo ebraico ovviamente è riuscito a è riuscito a ferirlo è vero lui zoppicava anche noi oggi in un certo senso zoppichiamo è vero ci manca tante cose però siamo ancora vivi perché? perché perché Hashem ci ha messi in questo mondo per una per una missione specifica di portare la sua luce in questo mondo e di insegnare alle altre nazioni la stessa cosa di amare Dio e di portarlo giù in questo mondo fisico con noi perciò anche se ci vogliono annientare non riusciranno mai perché noi qua stiamo lavorando per Dio perciò Hashem ci protegge perché ha bisogno che tutti noi che tutti noi andiamo avanti nella missione di portare la luce di Hashem nel mondo perciò il punto è che anche se abbiamo momenti difficili momenti che si sembra che stiamo per essere annientati l'abbiamo visto nella storia arriva Hashem e Echip protegge adesso andiamo avanti vediamo che ore sono andiamo avanti nella su questo argomento sul la ferita di Giacobbe proprio nel nervo sciattico questo combattimento ci dimostra appunto che anche se ci vogliono uccidere alla fine Hashem ci protegge ok ma c'è una cosa strana che le mitzvot che noi abbiamo sono per ricordare un qualcosa che è successo in passato per esempio arriva fra poco arriva Hanukkah alta parentesi domenica 18 siamo nell'anno 2022 domenica 18 settimana prossima è la prima accensione delle candele mi raccomando preparatevi comprate le candele il candelabro organizzatevi per non arrivare all'ultimo secondo appunto Hanukkah perché lo facciamo per ricordare che all'epoca dei greci hanno distrutto il santuario spiritualmente l'hanno distrutto hanno invaso il santuario hanno tolto tutto l'olio perciò noi per ricordare quell'evento lì e la salvezza del popolo ebraico accendiamo ogni anno una candela due, tre, quattro fino a otto lo stesso discorso lo abbiamo a Pesach per ricordare il miracolo dell'uscita dall'Egitto e la salvezza degli ebrei quant'altro mangiamo le azime le erbe amare quattro bicchieri di vino e raccontiamo l'agadà facciamo il seder tutta una cerimonia per ricordare il miracolo che abbiamo ricevuto Shabbat ogni sabato ci fermiamo per ricordare che Hashem ha creato il mondo e un giorno si è fermato da creare e così via Purim Shavuot ogni festività che noi abbiamo è per ricordare un miracolo che ci è stato in passato qui vediamo una cosa strana Giacobbe viene ferito a una battaglia e viene ferito invece di festeggiare il fatto che lui è rimasto in vita che si è salvato no cosa facciamo noi in che modo ricordiamo questa battaglia questo incontro qua non mangiando il nervo sciatico infatti la Torah scrive visto che Giacobbe è stato ferito proprio nel nervo sciatico cosa succede? gli ebrei non possono mangiare negli animali che c'è che mangeranno il nervo sciatico non lo possono mangiare perciò in quella parte lì non la si mangia allora la domanda è solo perché Giacobbe è stato ferito nel suo nervo sciatico noi ricordiamo questa cosa non mangiando il nervo sciatico di un animale sembra una cosa che non abbia molto senso perciò noi non stiamo attenzione noi non stiamo in questo modo festeggiando la sua salvezza perché non è che lui si è salvato tramite il nervo sciatico noi stiamo semplicemente la Torah ci vieta di mangiare il nervo sciatico per quella storia lì ma non è che noi stiamo festeggiando ripeto non stiamo festeggiando la sua salvezza e poi appunto cosa c'entra il nervo sciatico dell'animale solo perché Giacobbe un umano è stato ferito non si capisce cosa sia il nesso logico spiega il Rebbe una cosa molto profonda dice così fate attenzione che proprio tramite questa mitzvah questo divieto di mangiare quel specifico preciso pezzo dell'animale che è il nervo sciatico allora proprio questa mitzvah e con tutti i suoi dettagli di come fare questa mitzvah che noi possiamo scoprire come guardare con che ottica guardare la storia del popolo ebraico e di come la divina provvidenza ci accompagna ogni passo della nostra vita perciò questo piccolo nervo sciatico che è una piccola parte dell'animale il fatto che la Torah ci vieta di mangiare questa cosa qui stranamente adesso vedremo il perché ci da un'ottica di come guardare la divina provvidenza generale e di come guardare che come guardare la storia del popolo ebraico da Abramo fino a oggi a noi adesso cerchiamo di focalizzare di capire questo punto qua abbiamo spiegato che la divina provvidenza quella che si chiama Ajgachah Pratit ci segue sempre c'è una divergenza di pensiero su cosa sia la divina provvidenza il Maimonide il Rambam dice una cosa del genere dice che nel mondo c'è un meccanismo generico chiamato natura per esempio che orchestra tutto quello che è la sua zona il mondo per esempio gli animali le piante una parte della vita perciò la natura è uno strumento che Dio ha messo in questo mondo che la natura giostra l'andamento del mondo questo è quello che il Maimonide dice arriva il Baal Shem Tov un po' dopo del Maimonide Baal Shem Tov è il fondatore del chassidismo proprio prima ancora del primo Rebbe che festeggiamo il proprio fondatore del chassidismo lui dice va un livello ancora più profondo dice in realtà la divina provvidenza non è soltanto quello che il Maimonide dice ma è un qualcosa di più la divina provvidenza è un qualcosa che Dio direttamente controlla il mondo e non che la natura che c'è questo meccanismo che va avanti quasi da solo che si chiama natura lui dice no in realtà Ashgaha Ashgaha vuol dire controllo di Dio è diretto che Dio controlla e vede ogni singola cosa che succede nel pianeta nel globo è controllato voluto da Dio e non un meccanismo semi-automatico per esempio lui porta un esempio molto interessante il basse d'altra parte se cade in questo punto o su quell'altro punto non è perché il vento è venuto e casualmente è caduto o lì o lì dice ogni foglia e in autunno ci sono migliaia di foglie ogni foglia che cade è per divina provvidenza che esattamente doveva cadere in quel centimetro in quel posto in quel monumento in quella posizione e non è soltanto che il vento è venuto perché fa parte del meccanismo della natura dice no 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 Dio ha voluto esattamente quella foglia lì e quell'altra foglia lì una volta un suo discepolo del Barsham Tov non riusciva a capire questo concetto ma ma Rabbi non capisco cosa vuol dire e allora il Barsham Tov gli dice alza quella foglia lì il ragazzo va alza la foglia e vede che sotto la foglia cosa c'era? c'era un verme e gli spiega il maestro vedi? c'è un sole molto caldo oggi questa foglia è caduta questa foglia in questo momento è lì per poter coprire e dare riparo a questo piccolo verniciatolo di poter vivere prima di tutto il Barsham Tov come ha fatto a vedere che c'era di sotto un verme ovviamente non l'ha visto con gli occhi di carne ma l'ha visto con gli occhi che un tzaddik vede dappertutto e lì gli ha insegnato guarda quella foglia è caduta in quel momento per aiutare questo verme che è una cradura di Dio a vivere c'è un altro esempio molto forte che nella Torah parla di questo volato di questo uccello che si chiama il Shalach e il Shalach cosa fa? si nutre dei pesci che sono nell'acqua perciò Shalach vola entra nel mare prende un pesce e lo mangia dice guarda quel pesce era il suo destino che doveva venire ma essere mangiato in quel momento da quel pesce in quel momento è stato giustiziato in qualche modo la volontà divina voleva che quel capisco che un pesce mangia un altro pesce ma qui un uccello viene nel mare nell'acqua a prendere un pesce dice questa è divina provvidenza che in quel momento quell'uccello deve mangiare quel pesce perciò aggiunge il Balshento ancora una cosa di più dice non solo che è divina provvidenza che Dio vede tutto bensì ogni cosa che succede è indispensabile attenzione ogni cosa che ci succede che succede nel mondo che succede ad uno di noi è indispensabile per l'esistenza del mondo per l'esistenza della nostra vita anche se noi non lo vediamo o non lo capiamo il Balshento dice non è soltanto che Dio vede e Dio fa ogni cosa che succede è per il bene del mondo per il tuo bene anche se a volte è sotto forma di incidenti di sofferenza ogni cosa che succede è indispensabile per la nostra vita e per l'andamento del mondo anche le cose difficili le cose amare le difficoltà il Rebbe dà un esempio molto pratico su questo concetto della divina provvidenza ricordiamo ci stiamo parlando del perché questo piccolo nervo della storia di Giacobbe ha fatto tutto questo ha così tanto spazio e peso nella Torah quando sembra a priori qualcosa di non importante perciò stiamo parlando della divina provvidenza che ogni cosa che succede nella vita di una persona anche questa piccola cosa è importante il Rebbe dà un esempio e dice una brava casalinga una donna di casa sa esattamente tutto quello che c'è in casa sua lei sa cosa c'è in casa dove si trova ok a parte che i bambini magari possono spostare fare ma generalmente parlando ogni brava donna casalinga sa esattamente tutti gli attrezzi che c'è in casa cosa c'è in casa dove si trova lei ha ordinato ogni cosa che ci sia al suo posto io ho detto bambini per non svergognare i mariti ok perciò lei sa esattamente tutto dove si trova non c'è niente di superfluo e non c'è niente che manca perché ogni brava donna ha tutto quello che ha bisogno per gestire la famiglia e la casa c'è in casa sua perciò ogni piccolo dettaglio della casa ha un suo perché molte volte sembra la moglie sa la donna sa perché ogni cosa è in questa casa e ogni cosa ha un suo perché ha una sua importanza per l'andamento della casa e così è per ogni evento del mondo ogni cosa che succede ogni evento nel mondo il grande evento il piccolo evento l'evento che nessuno mai vedrà ogni cosa che succede in questo mondo ha un suo perché è divina provvidenza è volontà di Dio e questo dobbiamo mettercelo bene in testa anche le cose negative le cose amare le cose tristi sono volontà di Dio lui sa il perché ora riusciamo a capire il perché questa mitzvah del nervo sciattico è così importante perché fino a oggi dopo migliaia di anni gli ebrei non possono mangiare quel pezzo dell'animale solo perché Giacobbe è stato ferito lì per dimostrarci che cosa? per dimostrarci appunto che ogni piccolo dettaglio della vita è essenziale ogni dettaglio della vita è essenziale appunto come dice il balshento da ogni cosa che vedi della vita devi imparare una lezione una lezione per la tua vita vai fuori vedi una scena vai fuori niente casuale se io vedo una certa cosa sento una certa cosa è perché Dio mi sta mandando un messaggio perché Dio mi vuole arricchire interiormente mi vuole dare un messaggio mi vuole insegnare qualcosa ogni cosa non solo i grandi miracoli anche le minime cose dobbiamo capire Dio mi sta parlando devo capire un qualcosa dobbiamo chiederci cosa posso imparare da questa cosa qua perché se no perché Dio mi ha fatto chiedere la veda perché se io l'ho vista vuol dire che Dio mi vuole fare vedere vuol dire che mi vuole insegnare qualcosa perciò non possiamo dire tornando alla domanda di prima come cosa c'entra il fatto del nervo sciattico di un umano di Giacobbe con il nervo sciattico dell'animale che io voglio mangiare oggi a pranzo cosa c'entra l'uno con l'altro invece c'entra perché è tutto interconnesso c'è scritto Dio prima ancora di creare il mondo aveva già creato scritto ed è stato ideato la Torah la Torah è come la piantina come quando una persona vuole creare un palazzo ha una piantina sul quale lui ha disegnato e crea il palazzo in base alla piantina che ha già disegnato così Hashem la Torah l'aveva già ideata prima ancora del mondo e la Torah era la piantina per la creazione del mondo Giacobbe ha guardato nella Torah e in base a quello che è scritto ha costruito ha creato il mondo perciò il mondo è stato creato in base alle regole della Torah e non che Dio ha creato il mondo e poi ha ideato la Torah attenzione questo tanti non lo sanno tanti lo ignorano la Torah c'era già da prima Dio l'aveva già ideata prima in base a quella ha creato il mondo perciò se la Torah è la cartina il blueprint del mondo tutto ciò che è scritto nella Torah influenza direttamente il mondo giusto? perciò non mangiare quel nervo è perché nella Torah c'è scritto che Giacobbe è stato scritto in quel nervo ha influito anche nella nostra vita perciò nervo, nervo noi non mangiamo noi non mangiamo uomini ovviamente perciò quello che noi mangiamo quel nervo non possiamo mangiare perciò gli animali quel nervo non possiamo mangiarlo perciò tutto questo cosa ci dimostra prima di tutto ci dimostra come abbiamo detto all'inizio della serata di come vederla ha seduto ci insegna di guardare con gli occhi giusti a volte noi la divina provvedenza ci insegna che a volte noi ci troviamo in una situazione che assolutamente noi non vogliamo trovarcela stiamo soffrendo è una strada stretta e non capiamo perché cosa ho fatto di male per dovermi meritare una vita così dura difficile sofferenze e difficoltà viene spiegato che proprio tramite queste difficoltà queste sofferenze che Dio ti vuole fare crescere c'è chi ha la strada spianata la strada aperta la strada libera dice vai cammina altre persone hanno difficoltà perché Dio dice io voglio che tu cresci e diventi forte tramite queste difficoltà che io ti do io le difficoltà non te le do per per bloccarti ma al contrario per spronarti a volte abbiamo bisogno a volte di qualche sberla di qualche difficoltà per svegliarci e proprio tramite quella quella situazione di vita che ci troviamo che dobbiamo capire Dio non mi sta punendo Dio vuole aprirmi un cancello un portone vuole farmi crescere un upgrade perciò ogni difficoltà della vita ricordiamoci che Dio ci vuole lì io adesso devo stare qui Dio vuole che in questo momento io devo soffrire devo avere questa circostanza perché Dio vuole che io sia capace di sorpassare questa circostanza e sorpassandola crescerò diventerò più forte di prima è solo questo questo è quello che la Cassidù ci insegna di guardare tutto in un modo positivo dove ti trovi lì tu riuscirai a fiorire dove ti trovi lì riuscirai a fiorire anche se ti hanno buttato la sabbia addosso e volevano sotterrarti tu sei un seme un seme sotto la terra cresce adesso finiamo la lezione un punto ancora importante da capire è che la divina provvidenza in ogni piccolo dettaglio quando beviamo un bicchiere di acqua quando diciamo che tutto è avvenuto tramite la parola di Dio tutto quello che succede è perché Dio ha voluto tutto è orchestrato da Dio e ogni cosa ha la sua ragione una persona si perde per strada si perde perché? perché Dio aveva bisogno che tu in quel momento fossi lì e non dove tu pensavi di andare una persona va da Milano a Roma in treno si addormenta alla fermata di Roma e arriva a Napoli la prossima fermata divina provvidenza Dio aveva bisogno che lui in quel momento fosse a Napoli e non a Roma ovvio io non voglio che succeda perché c'è un appuntamento a Roma ma se succede vuol dire che Dio in quel momento sa meglio di me dove io devo essere dove c'è bisogno di me non guardare dove tu hai bisogno guarda dove tu sei necessario dove tu hanno bisogno di te magari vado a Napoli non succede niente non ho salvato la vita a nessuno io non lo so cosa ho fatto a Napoli però Dio voleva che io nassi a Napoli forse qualcuno mi ha visto e si è ricordato del suo ebraismo forse qualcuno mi ha visto non posso mai sapere cosa posso io fare anche se non lo so sono andato lì sicuramente quando sono andato lì ho pregato ho detto un teilin mi sono fermato a fare la preghiera pomeridiana ho fatto la benedizione ho pensato a Torah forse in quel momento Napoli aveva bisogno che io elevassi la stazione di Napoli sono mille varianti che noi non possiamo sapere ma il punto è questo la divina provvidenza è anche in cose che noi specialmente in cose che noi non possiamo capire perciò cosa succede? se perdi strada se ti addormenti se perdi il volo quello che sia cosa succede? noi non dobbiamo arrabbiarci al contrario dobbiamo capire cosa si nasconde qui dietro che Dio mi sta portando qui perché c'è bisogno di me qui e così è per ogni cosa nella nostra vita questo nervo sciattico è un esempio soltanto che Dio ci sta dicendo guarda che importanza è un nervo sciattico non è che l'ha salvato l'ha quasi ucciso noi ricordiamo questo negociato che vuol dire ogni piccolo dettaglio del mondo anche un nervetto è importante e noi ricordiamo questa storia non mangiandolo perché tutto è importante quello che sia nella vita e concludo con una storia che è successa qualche anno fa in America c'è un rabbino mio maestro che Dio lo benedica si chiama Rabbi Jacobson è un gigante della Torah lui racconta la seguente storia un anno l'avevano invitato lui è un grande oratore va in giro per il mondo a parlare insegnare a fare discorsi lezioni e così via un anno l'hanno invitato a partecipare a un Shabbaton Shabbaton vuol dire in questo caso un weekend dove invitano persone per esempio in un hotel e tante famiglie vengono e c'è rabbini che fanno discorsi insegnano e fanno un Shabbat insieme e tutto quanto allora questo Shabbaton l'avevano invitato già da tempo a prima e lui si era già segnato questo giorno che si è tenuto libero lo chiamano il venerdì mattina era inverno venerdì mattina quando lui doveva già prendere la macchina e guidare due o tre ore per arrivare in questa città lo chiamano quello stesso giorno qualche ora prima dell'evento dicendo rabbino ci dispiace l'evento è cancellato ma come? io dovevo essere lì oggi e voi oggi per oggi cancellate un evento con centinaia di persone ma cosa stai dicendo? rabbino siamo mortificati è successo un problema interno un problema di politica all'ultimo abbiamo deciso di annullare l'evento ci dispiace non sappiamo ci vergogniamo dobbiamo chiamarci signori di persona cerchi di capirci ok il rabbino ci rimane molto male perché prima di tutto lui aveva mandato i suoi figli dalla nonna qua e là per non portarli a questo posto e in più si trova che il venerdì a poche ore prima di shabbat la moglie non ha cucinato loro pensavano di andare via e poi perdere un evento così grande che lui sarà preparato le varie lezioni sapete? per un oratore per uno che fa questo mistero è fastidioso è disturba non poter arrivare davanti a tante persone a insegnare a fare va bene è successo è successo per lui era amareggiato era arrabbiato dentro cosa fanno cosa non fanno chiamano un amico e si fanno invitare per venerdì a cena perché ormai era tardi per l'indomani comprono qualcosa di pronto nel negozio così fanno vanno pensano di fare shabbat benissimo vanno a casa degli amici stanno insieme e tornano a casa per dormire per dormire lui racconta prende prima di andare a letto prende una gmarà comincia a studiare e ovviamente viene di sera dopo cena una cosa l'altra si addormenta e si sveglia alle 3 del mattino con il libro addosso eccetera eccetera si sveglia e ha una sente qualcosa che non va va a guardare di là tutto a posto tutto a posto però c'era un qualcosa che lo disturbava e non capiva cosa fosse non riesce a dormire non riesce a dormire sono già le 3 di notte lui racconta all'epoca abitava in un palazzo lui abitava in un certo piano e al quarto piano dello stesso palazzo lui aveva il suo studio il suo ufficio dove aveva tutti i suoi libri i suoi appunti le sue cose dice non riesce a dormire dice vado su in un ufficio tanto la luce lì è sempre accesa lì per Shabbat lascia sempre la luce accesa per ogni evenienza e dice vado su a studiare qualcosa esce dalla sua dalla porta di casa e va a scale perché è Shabbat per arrivare al quarto piano arriva su nelle scale al 3 del mattino e vede che c'è il suo vicino questo ragazzo seduto sulle scale con una faccia disperata una non una bella cera allora la vai a Giacob se ne mette la mano sulla schiena a dirmi cosa c'è cosa non va tutto a posto ha bisogno di qualcosa vuoi venire a dormire sei rimasto fuori di casa vuoi venire a dormire da noi niente questo qua non mi risponde a un certo punto questo ragazzo qua scappa si fionda a casa e si butta dentro va subito in cucina aveva già preparato un flacone con delle pasticche prende questo flacone una manciata di e vuole buttarsela in bocca per per suicidarsi Rav Jacobson che è una persona molto intelligente e studia anche e fa sempre insegnamenti di psicologia dalla reazione già dalle scale capisce che c'è qualcosa che non va quando il ragazzo corre dentro casa lui si piomba dentro a vedere cosa sta facendo e quando vede che lui stava per inghiottire queste ha cominciato a combattere con lui aveva parlato del combattimento no? Rav Jacobson comincia a combattere con questo ragazzino per evitare che lui ingoie queste pasticche e lui racconta abbiamo combattuto però io sono riuscito a ho stato più forte di lui e sono riuscito a fargli cadere le pasticche e non fargli e non fargli mangiare dopodiché sono rimasto un po' con lui l'ho un po' calmato gli ho parlato dice tutta la notte sono rimasto sveglio non è più andato in ufficio ovviamente dice tutta la notte fino all'alba sono rimasto sveglio con lui alle otto avevo una lezione al tempio non ho potuto neanche dormire ho portato questo ragazzo dopo tutta la notte che abbiamo chiacchierato l'ho portato a casa ho detto a mia moglie guarda gli ho raccontato velocemente cosa è successo se puoi stare se puoi tenermi un po' a vada perché vado al tempio torno subito faccio veloce torno subito e lui è sui tranquillo non ti preoccupare non farà niente e così succede tornano poi lui dopo Shabbat l'ha indirizzato a qualcuno a un psicologo che potesse aiutarlo nella sua situazione eccetera eccetera racconta oggi questo ragazzo è uscito da questi problemi si è fatto una famiglia ha un lavoro ha una carriera questo quell'incontro lì gli ha cambiato la vita adesso lui racconta Raph Jacobson io all'inizio mi sono arrabbiato perché ho perso questo questo grande evento che aspettavo tanto tempo mi sono preparato poi dopo ho capito perché Dio ha fatto sì che ci fosse una problematica che all'interno che io non andassi perché io dovevo essere qui a salvare la vita di questo ragazzo se io non fossi stato qui se fossi stato all'evento questo ragazzo sarebbe morto si sarebbe suicidato matematico io ho dovuto combattere per salvargli la vita dice Dio Jacobson ho capito adesso capisco e apprezzo e benedico quel giorno che è saltato quell'evento che sono riuscito proprio letteralmente a salvare la vita a un giovane ragazzo non per forza noi dobbiamo sempre come in questo caso vedere il risultato finale ho perso il treno e allora vedo un miracolo no non per forza noi dobbiamo vedere e capire il lieto fine di un qualcosa di amaro no non sta a noi per forza sempre vedere e capire il tutto Dio sa quello che fa e questo è il punto il piccolo nervo sciatico una piccola cosa che può cambiare la vita di una persona diamo importanza a ogni fattore piccolo anche quando ci metti in situazioni negative dobbiamo dire Dio sa grazie Dio perché se in questo momento sto vivendo un momento amaro è perché sicuramente tu mi stai preparando qualcosa di estremamente dolce e mi stai preparando che io possa accogliere capire crescere mentalmente per poter ricevere questa grande cosa che mi stai dando a volte siamo piccoli per ricevere allora in qualche modo Dio ci vuole spronare ci vuole crescere lui sa non dobbiamo capire lui sa in qualche modo anche se è tramite qualcosa di amaro ma perché poi io riuscirò a capire e questo è quello che la Torah la Hasidur ci insegna di valorizzare ogni piccola cosa della nostra vita niente è inutile specialmente le difficoltà oh le difficoltà vanno apprezzate noi non dobbiamo volere Has Shalom mai volere sperare di avere amarezza mai ma quando l'amarezza arriva dobbiamo dire wow 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 dobbiamo già fare così wow 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 se ho un momento di difficoltà vuol dire che Dio mi sta veramente preparando un qualcosa di grandioso devo soltanto aspettare devo soltanto agire crescere capire il messaggio ma prima o poi verrà fuori questo grande miracolo questo grande dono che Dio ha per me prima o poi arriverà perché? perché in questo momento sto soffrendo e da ogni sofferenza viene fuori soltanto il bene per tutti noi possa Hashem benedirci di darci la cosa migliore che aspettiamo che è la venuta di Mashiach Zitken la redenzione finale il terzo presto ai giorni nostri Amen e ricordiamoci quando siamo pieni di problemi quando stiamo soffrendo non dobbiamo perdere la bussola dobbiamo capire che Hashem in questo momento ha dei piani più grandi di quelli che noi abbiamo per noi stessi chiedo a tutti per favore di condividere questa lezione nella vostra pagina facebook è Mashiach Now Shabbat Shalom a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti